Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Biblioteca di Buona Cultura. Oggi parliamo di un tema di grandissima attualità e lo facciamo approfondendo i contenuti di un libro appena uscito scritto da Salvatore Sant'Angelo, Fronte dell'Est, passato e presente di un destino geografico. Io ricordo che Salvatore Sant'Angelo è ormai un volto noto di Buona Cultura, oltre che ovviamente essere un volto noto della televisione, infatti è un giornalista professionista, è professore universitario. E nella quarta di copertina Salvatore dice, è come se un tragico destino beffardamente, drammaticamente, si fosse riproposto per congelare le aspettative di modernizzazione ed emancipazione di questi popoli. E vedremo fra poco quali sono questi popoli, condannandoli a recitare ancora una volta la parte di vittime di una tragedia grega. E nella quarta di copertina c'è scritto che negli anni 30 negli Stati Uniti in una rivista c'era una cartina geografica e su questa cartina geografica ricordava che il prossimo conflitto in Europa sarebbe stato in Ucraina. Così è stato e quindi vediamo che cosa sta accadendo dal fronte dell'Est e lo facciamo appunto avendo con noi Salvatore Sant'Angelo. Salvatore benvenuto, grazie di essere nuovamente qui con noi a Vua Cultura e ti lascio la parola in modo tale che in pochi minuti puoi descriverci cosa sta accadendo appunto sul fronte dell'Est. Bene, grazie a voi, grazie dell'invito che accolgo sempre con grande piacere. Ma il fronte dell'Est è una delle possibilità di lettura di questo spazio geografico che tu hai evocato nelle parole introduttive di questo nostro momento di approfondimento. Questo spazio compresso tra la Germania e la Russia può avere diverse interpretazioni. Se lo guardiamo da Varsavia è il tentativo appunto di emancipazione di questi popoli attraverso quel meccanismo che si definisce Intermarium. C'è un grande spazio baricentrato sulla Polonia che è in grado di allontanare le mire espansionistiche della Germania e della Russia. Se lo guardiamo da Washington è la nuova Europa, secondo un'allocuzione polemica coniata nel 2003 dall'allora segretario alla difesa Donald Rumsfeld del governo di Bush Junior, impegnato nel tentativo di convincere il mondo a partecipare alla crociata contro Saddam Hussein, che di fronte alla riluttanza dell'Europa rispetto a quell'asse tedesco-francese-russo con il supporto di Giovanni Paolo II guardava con molto diffidenza questa avventura che appunto stava prendendo forma. E quindi la nuova Europa in contrapposizione con la vecchia Europa, imbella e non riconoscente del ruolo storico degli Stati Uniti, vincitrice della Seconda Guerra Mondiale, garante della democrazia nella logica della guerra fredda. Se lo guardiamo in una logica collaborativa tra Berlino e Mosca, questo stesso spazio è Gerussia, quindi l'argomento della mia precedente tesi di dottorato, pubblicato sempre con Cassel Vecchi, che rimanda a questa logica di collaborazione e di integrazione energetica che si sostanzia nel Nord Stream I e II. Fronte dell'Est invece è quello che purtroppo abbiamo conosciuto con una sorta di determinismo storico-geografico per ben tre volte nell'arco di cento anni, perché diciamo al di là di una certa visione che focalizza la Prima Guerra Mondiale su quel niente di nuovo sul fronte occidentale, dal titolo di un grande libro di Remarque, a Oriente si è combattuto, si è combattuto brutalmente e proprio le sconfitte dell'impero zarista hanno innescato la dissoluzione della monarchia degli zar, il vuoto di potere e poi la rivoluzione bolshevica e poi ancora il fronte dell'Est è stato infiammato da quel terrificante conflitto iniziato con l'operazione Barbarossa il 22 giugno del 1941 dai nazionalsocialisti. Oggi per la terza volta in cento anni quello spazio geografico di nuovo si trasforma in fronte dell'Est, quindi la logica conflittuale, lo scontro che non è circoscritto solo ad una dinamica regionale ritorna ad essere protagonista. La domanda di fondo di questo libro però è anche un'altra, quindi non solo la lettura dello spazio geografico ma anche la domanda, non è che siamo esattamente lì dove ci poteva portare Putin, perché lo stiamo vivendo questi giorni con la crisi che attanaglia il governo Draghi, di cui sono protagonisti quantomeno due partiti, penso al Movimento 5 Stelle ma dietro sappiamo che c'è anche la Lega pronta ad andare al voto che rispetto al conflitto hanno una posizione neutralista se non simpaterica nei confronti della Russia e prima di Roma è stata Londra ad essere investita da una tempesta perfetta e questo è solo l'inizio di una stagione, quella dell'autunno caldo che sarà ancora più caldo a causa dell'inflazione, del blowback come lo chiamano gli anglosassoni, del ritorno di fiamma, delle sanzioni, dell'alto costo dell'energia con tutto quello che questo diciamo in qualche modo comporta sul versante della tenuta delle nostre società. Salvatore tu sei un esperto di geopolitica e coloro che seguono tua cultura sanno la tua conoscenza molto approfondita, ecco tu ci hai fatto un quadro che noi vediamo quotidianamente H24 in televisione su qualsiasi emittente, su qualsiasi giornale, sui social, quello che sia. Hai evidenziato alcuni punti di riferimento la crisi internazionale, il problema dell'energia, la necessità di andare al voto, quelle che sono le dinamiche interne dell'Italia ma che poi diventano le dinamiche interne che abbiamo visto anche in Inghilterra con Johnson che stiamo vedendo negli Stati Uniti col suo presidente con Biden. Ecco, volevo chiederti all'interno del tuo libro come riusciamo ad approfondire ancora di più questi temi? Sì, beh l'esigenza di andare al voto, diciamo che la nostra è una democrazia parlamentare, quindi il rito elettorale dovrebbe essere scandito a esaurimento naturale delle Camere, ancora di più diciamo in un momento come questo dove di fatto un'elezione anticipata comporterebbe una serie di problemi sia sul versante appunto dei rapporti con l'Europa, sappiamo benissimo il PNRR, ma ancor più sul versante della politica internazionale perché non nascondiamocelo, questa crisi nasce anche sulla postura dell'Italia nei confronti dell'Ucraina. Il mio libro fondamentalmente in qualche modo è la sintesi delle mie riflessioni dal 24 febbraio. Beh, diciamo che qual è il punto di vista diverso rispetto ai tanti commentatori che si sono affacciati rispetto a questo termine? Innanzitutto, diciamo io, non mi improvviso virologo o esperto di Ucraina, diciamo questo è un argomento a cui ho dedicato gli studi del mio dottorato di ricerca, appunto il rapporto tra Russia e Germania, il loro impatto all'interno di questo spazio geografico e quindi il tentativo è quello di dare anche con strumenti semplici, didascalici, ai nostri lettori una serie di attrezzi che da questa metaforica cassetta potessero in qualche modo essere utilizzati per una lettura non schiacciata sulla stretta attualità perché altrimenti il rischio di quello di seguire le progressioni che sono anche di centinaia di metri se di qualche chilometro al giorno non ci aiuta a capire la dinamica profonda del conflitto e ancor più l'impatto globale. Quindi diciamo l'auspicio, l'idea e forse un po' anche la presunzione di questo libro è quello di utilizzare i due strumenti che di più hanno accompagnato l'evoluzione del mio pensiero, cioè quindi da un lato una lettura critica della globalizzazione a cui ho dedicato Babbel e poi innestare questa lettura su una dinamica storico-geografica come quella dei territori compressi tra Germania e Russia. Parlare con Salvatore è sempre estremamente interessante perché se nella Biblioteca di Coacultura spessissimo affrontiamo temi a volte lontanissimi, a volte storici, a volte un po' lontani anche dalla nostra quotidianità, di quello che noi viviamo ogni momento, e Salvatore con le sue pubblicazioni centra sempre quelle che sono le condizioni sociali, le condizioni economiche, le condizioni politiche, geopolitiche in generale che ci coinvolgono. Quindi leggere un libro di Salvatore è leggere un libro sempre attuale che dopo essere stato attuale ci consente dopo quando tutti questi avvenimenti saranno passati di fare anche un po' una riflessione a posteriori tra quelle che erano magari le posizioni, le osservazioni, le analisi che Salvatore ha fatto rispetto a quello che poi effettivamente è accaduto e che con il passare del tempo è diventato storia. Salvatore, con pochissimi secondi, soltanto una tua ultima riflessione sia sui contenuti del libro e come poi effettivamente noi riusciamo attraverso la sua lettura ad avere una visione più ampia e forse più chiara di ciò che sta accadendo. Ma intanto ti ringrazio per le tue parole estremamente generose, sempre per l'amicizia e l'attenzione con cui segui e seguite il lavoro che porto avanti sia da un punto di vista scientifico che divulgativo. Ma diciamo, devo dire che, allora, il rapporto di un autore con la sua opera è sempre un rapporto particolare. Per dire, ad esempio, io ero molto perplesso nel pubblicare Geopandemia che invece poi si è rivelato un libro di grandissimo successo e devo molto al mio editore che invece mi aveva chiesto diciamo di sviluppare una riflessione sull'impatto geopolitico del Covid-19 e poi sin dalla parola scelta come titolo si è rivelato, come dicevamo, estremamente fortunato e ha portato un cono di attenzione su queste riflessioni. Devo dire anche che questa volta Pietro D'Amore, l'editore di Castelvecchi, mi ha sfidato chiedendomi, diciamo, pur mantenendo il rigore scientifico, un libro che potesse aiutare ad orientarsi anche all'interno del dibattito. Perché bisogna dire che ci troviamo in una condizione non favorevole alla reale comprensione degli eventi. perché se da un lato certamente il nostro cuore batte con la resistenza ucraina, siamo vicini a Kiev, dall'altra questa posizione non deve farci perdere di vista la difesa dell'interesse nazionale e anche la percezione di quello che sarà questo conflitto e di quelli che potrebbero essere i costi. Dico questo perché ad esempio si perde di vista un fatto durante la Seconda Guerra Mondiale quando Churchill si oppose a tutti i costi a una forma di appeasement con il Terzo Reich e ci fu anche un momento dopo la disfatta della Francia in cui la Gran Bretagna davvero tenne questa posizione in modo assolutamente solitario, beh alla fine diciamo che la Gran Bretagna vinse ma perse praticamente tutto, perse la propria base industriale, il centro di potereggio politico dell'Anglosfera passò da Londra a Washington e alla fine gli stessi elettori inglesi alla prima tornata elettorale utile punirono severamente Churchill premiando con il proprio voto i laboristi. Quindi dico questo perché soprattutto le democrazie sono particolarmente esposte in un momento come questo dove si scontrano con due autocrazie che hanno i vertici dei leader che hanno una visione strategica come Xi Jinping per la Cina e Putin per la Russia e c'è il rischio veramente di un impatto violentissimo sulla tenuta stessa dei nostri sistemi paesi. E' tempo che tra l'altro faccio mia un appello ma l'ho fatto dai primissimi giorni, devo dire forse uno dei pochi in Italia ad assumere questa posizione eppure essendo schierato con l'Ucraina, lo dice Foreign Affairs, dobbiamo rinunciare all'illusione della vittoria di Kiev. Kiev ha perso la guerra nel momento in cui i russi hanno attaccati e già semplicemente immaginare che il 30% del territorio, quello strategicamente più importante, quello più ricco, quello che ha al suo interno la maggior quantità di materie prime, venga strappato da questo paese, certamente creerà un violentissimo contraccolpo che rischia di far saltare Zelensky e poi a cascata in generale impattare su tutto il resto delle opinioni pubbliche. Quindi dobbiamo avere il coraggio di dire ai nostri, alle nostre opinioni pubbliche che questo sarà un confronto di lungo periodo, come diceva Mao Zedong, è una guerra di lunga durata. E vedere in questi giorni a Piombino i cittadini che manifestano contro un'opera sacrosanta come il rigasificatore e scandire slogan vogliamo il gas russo, ci dice che il cortocircuito già è in atto e che quello che ci aspetta sarà veramente una traversata difficilissima e avremo grande, grande problematicità nel tenere insieme il fronte interno. E come dicevo, Salvatore ha riconfermato esattamente appunto quello che stavo dicendo, ci dà sempre un quadro veramente uno a uno live di quello che sta accadendo con le sue interpretazioni, con le sue analisi, con quello che è lo studio. Ci ha detto prima Salvatore che questo non è un libro che nasce così a caso perché c'è il Covid, divento improvvisamente virologo e faccio il libro, c'è la guerra in Ucraina, divento improvvisamente esperto di quell'aria e faccio il libro. No, Salvatore da anni studia questi temi e quindi come abbiamo potuto vedere c'è una conoscenza molto approfondita che ci aiuta a vedere con occhi più chiari, ecco, mi piace usare questo termine, ciò che sta accadendo, ovviamente fermo restando quelle che sono le posizioni, le interpretazioni che diventano soggettive, oggettive e che comunque ognuno di noi ama, che io credo, attraverso la lettura del libro potrà avere un bit in più di comprensione e di analisi. Salvatore, grazie, grazie mille per la tua ennesima partecipazione alle attività di Bua Cultura. A me non resta che ricordare quindi di Salvatore Sant'Angelo, fronte dell'est, passato e presente di un destino geografico di Castelvecchi, editore. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento ad un successivo incontro editoriale con la Biblioteca di Bua Cultura. Grazie e a presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.